La struttura e il dragaggio, i due nodi a voler usare termini vicini alla marineria si avviano ad essere sciolti. Il porto di Pescara inteso come struttura che risponde ai criteri di efficienza e di avanguardia sta diventando realtà grazie a un altro step che è stato portato avanti nel cantiere che vale, cifra alla mano, oltre 12 milioni di euro. Sono già in corso il lavoro del primo lotto che lo stanno già trasformando e ormai il basamento del nuovo molo è visibile a tutti. Questo secondo lotto finirà di mettere in sicurezza l'apertura della diga foranea e renderà questa immersione di massi che oggi si può vedere un vero e proprio molo nord che sostituirà complessivamente l'attuale e poi ci sarà un terzo lotto che è la realizzazione del molo sud e l'abbattimento dei vecchi moli. Questo permetterà al fiume di arrivare oltre la diga foranea con evidenti miglioramenti sia sulla qualità della balneazione che sia sull'insabbiamento del porto. L'infrastruttura che Pescara aspettava da tempi lontanissimi? Beh sì, da sempre perché come tutti i porti fluviali ci sono evidenti problemi di insabbiamento e di convivenza tra la città ormai sempre più urbanizzata e il suo fiume. Ritengo che i cittadini comprendano che sono opere di grande importanza e di grande difficoltà ma man mano col tempo, diciamo nei prossimi 3-4 anni, il porto sarà complessivamente terminato e i trabocchi torneranno in acqua. Restituire al fondale la sua profondità significa dare una spinta in uscita all'acqua del fiume tutelando anche le imbarcazioni che verranno ancorate saldamente a sud in quella che sarà la futura vera banchina commerciale. Secondo le previsioni i lavori del secondo lotto dovrebbero partire per l'estate 2024. È stato un grandissimo gioco di squadra, mi piace però sottolineare ma non per patrocinare l'attività del centro-destra che con l'era Marsilio, l'era Masci e con tutti i consiglieri regionali e oggi onorevoli abbiamo fatto un grande lavoro di concertazione per un'opera che veramente stravolgerà in positivo la visione, la visibilità e anche l'utenza di Pescara.